allora eccoci qua col signor leo buongiorno ben trovato buona domenica altrettanto aspetta che messo a scolare la pasta uscire l'acqua dalla padella qua siamo in fase di cottura pasta con un bel sughetto alle olive mirko master chef ecco adesso mi inquadro eccomi sempre presente qua mandiamo qua vediamo i partecipanti a questo evento mister leo mister duty leo e qui il signor roberto prendiamo il sole prende il sole a questo romanzo testa quasi a finita un po però dopo pennichella mister barbecue quando per gli amici quando si può quando si può si accende la bracetta infatti ne sta progettando una portatile di legna ce ne sta tanta non so quanto la forestale quanto sia entusiasta di questa cosa però il barbecue ce l'ho ce n'è uno da provare a proposito e ma prossima volta lo sverginiamo un po dei salsiccetti un po dei salsiccetti a poi c'è stato pure la versione commerciale sotto il vino di excel e iscritto poi c'è stato pure la versione commerciale sotto il vino di excel e iscritto Grazie. Grazie. No, ho portato tre sunday. Non fai per te alcuni. Lotto sghiglia. Ti apprezzo a mangiare, stai. Pronunciati. Mi devo pronunciare. Mi sono pronunciato male da piccolo. Buona domenica a tutti. Grazie. E buon pranzo. Ottimo, ora vediamo. Vediamo lo chef cosa ho preparato. Oggi soghetto alle olive. Dai. Tanto, il costume è quello di canavacciolo. Ovviamente, vedi. La scatola. Grande Mirko canavacciolo. Eh, certo. Sta a finire il tavolo. Ma è molto complicato perché la maschilina è difficile. qua andiamo di livello. Togliamoci la mascherina. Eh, ancora ci vuole un po'. Ah, io a casa mia timer. Ah, sei proprio abituato. Quando suona, 8 minuti. 8 minuti. Ah, sei proprio così. Vabbè, qua il fuoco non è costante. Andiamo. Però guarda che bella giornata. Che bello spot. Manca. Mancherebbe una bella partenza. Arrivo, arrivo. Pura la partenza, arrivo. Pura la partenza, arrivo. Vabbè, va. Pura la partenza arrivo. C'è lento perché, ovviamente, la tiglia di torbara ha la posta non aprire addirittura di lago prosciugato. apri curati ma se non piove questo è su Twitch ormai faremo un sacco di diretti su Twitch lanceremo una moda vediamo se ci sarà qualche spettatore che si aggiunge ancora sto a zero spettatori ci vuole tempo eh sì su Twitch è proprio sì eh bravo bravo sì eh certo pure il pranzo hai fermato il mio riparo? sì sì la tua postazione di pesca oh no la postazione antifreddo mica male culla pronta materassino santi ci vediamo dopo di nuovo l'altro l'altro è un po' di nuovo si può